buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti oggi siamo qui con un semplice foglio bianco perché voglio parlarvi voglio mostrarvi quali sono i passaggi che io reputo essenziali o comunque quali sono i passaggi che io svolgo tuttora per creare un video per youtube so benissimo di essere l'ultima persona alla quale bisogna rivolgere questa domanda perché ci sono persone che fanno questo hanno questa passione fanno questo hobby da molto più tempo di me e lo fanno con anche più persone che li seguono però in ogni caso siccome sono un po agli inizi siccome sto cominciando volevo raccontarvi quello che faccio io quello che qual è la mia idea per poter realizzare un buon video quali sono i passaggi che faccio io per realizzare questi video poi se sono buoni o meno quello me lo dovete dire voi nei commenti insomma datemi un feedback spero che questo video vi sia utile ma bando alle ciance e cominciamo subito il primo passaggio la prima cosa da fare che secondo me per quanto mi riguarda è anche una delle parti più complicate e farsi venire un'idea in che senso non un'idea sugli argomenti da portare nel canale perché se io so che il mio canale di informatica so qual è l'argomento sul quale il canale gira attorno però la difficoltà è proprio quella di capire che cosa voglio portare nel video di oggi che cosa voglio trasmettere che cosa voglio condividere ecco questa è una cosa complicatissima perché io vi dico per esperienza soprattutto ultimamente più penso a che cosa voglio portare ti dico che cosa potrei portare nel video che devo far uscire prossimamente ecco più faccio questo ragionamento nella mia testa meno mi vengono in mente idee proprio perché io ho scoperto che almeno per quanto mi riguarda l'idea deve essere come un flash una cosa lampo che in qualunque momento della nostra giornata della nostra vita quotidiana che stiamo vivendo ci potrebbe venire anche di notte mentre che stiamo facendo tutta altra cosa rispetto a pensare a youtube in una frazione di secondo ti viene in mente ed ecco qui che hai un'idea per per il video del del tuo canale il passo successivo all'idea è quello di quello che faccio io ripeto è quello di cercare di definire in maniera un po più chiara che cosa voglio portare faccio un esempio relativo ai miei ultimi video che ho pubblicato programmazione in c idea no voglio portare qualcosa che si riferisca alla programmazione in c però la programmazione in c è un argomento si dell'informatica quindi ok c'entra nel mio canale abbiamo fatto questo controllo però è un argomento infinitamente vasto a tante sfaccettature tante cose che possiamo portare svariati tipi di programmi paradigmi di programmazione c'è un sacco di cose e quindi dobbiamo dall'idea dobbiamo definire appunto usato questo termine dobbiamo scremare tra virgolette il concetto fondamentale le cose fondamentale che noi vogliamo dire questo secondo me va bene sia per quanto riguarda un video che sia divertente o sia per quanto riguarda un video come sto cercando di fare io che sia ad una categoria che appartenga ad una categoria di istruzione che sia un video che cerca di trasmettere qualcosa che le persone possono anche imparare definire anche lì una cosa difficile però facendo questi questi passaggi che possono essere fatti in testa come nel mio caso oppure su foglio si decide allora con l'idea si capisce più o meno il macro argomento la cosa generale con cui di cui si vuole parlare andando a definire andando a scremare un po questa idea si capisce bene quali sono gli aspetti su cui dobbiamo focalizzarsi per potersi entrare l'obiettivo e parlare di questa idea fatti questi due passaggi ce n'è uno molto divertente anch'esso è molto difficile cioè registrare registrare vuol dire mettersi nel mio caso davanti al pc con un microfono oppure davanti a una telecamera per altri video fatti in modi diversi e cercare di esporre quello che si è definito nelle due fasi precedenti questa cosa può essere molto difficile perché comunque dobbiamo pensare di essere davanti un pubblico dobbiamo pensare che ci sono delle persone che ascoltano quello che noi diciamo e può essere difficile ma è anche molto divertente diciamo che c'è l'emozione dei primi tempi infatti adesso sto pensando di essere davanti pubblico sto pensando di avervi davanti a me sto pensando di parlare con voi altrimenti non sarebbe la stessa cosa e poi oltre a questo c'è il problema che siccome per esempio nel mio caso io non mi preparo una scaletta precisa cioè non sto non leggo niente di quello che devo dire ma una volta che ho definito bene l'argomento poi vado parto abbraccio anche perché molto spesso come mi viene in mente se un po di tempo libero faccio il video quindi queste due fasi le faccio al volo mentre che sto registrando in realtà quelle di definire bene e di avere bene l'idea precisa comunque a parte questo dobbiamo comunicare qualcosa dobbiamo parlare a delle persone quindi non è semplice la parte più più divertente almeno per me quello che mi fa sorridere e che molte volte appunto andando così a braccio delle volte mi capita di fare delle robe veramente incredibili che adesso voi sentite poco perché taglio però vi assicuro che ci sono tra parentesi taglio anche per risparmiare le vostre orecchie perché sentirmi fare non è così bello e quindi lo taglio per questo motivo però anche molto divertente per me ascoltarli sentire dove dove sono andato a parare quando poi non mi venivano le parole che quindi ho sono rimasto senza parole ho fatto insomma quindi è simpatica come cosa registrare una cosa come ripeto difficili primi tempi ancora adesso c'è un po di da parte mia c'è un po di diciamo emozione positiva nel senso di entusiasmo di adrenalina nel farlo però è una cosa veramente molto molto divertente e che secondo me aiuta molto a sciogliere diciamo anche un po le nostre timidezze se così possiamo dire la fase di registrazione però oltre a essere un gran divertimento delle volte anche una gran rottura di bip vi spiego perché potrebbe succedere che come nel mio caso non vivendo da solo vivendo in famiglia magari qualcuno fa fa qualcosa che provoca un rumore che ha un volume che entra all'interno del microfono o cose di questo tipo in questo in questo periodo vi starete accorti che nelle abitazioni mie vicine stanno facendo dei lavori e quindi un po di rumore di sottofondo purtroppo nei video è filtrato quindi le cose sono due o si riesce in fase di post produzione ma delle volte non è così semplice a togliere il rumore di fondo oppure la soluzione più pulita che cerco di adottare io è quella di rifare la parte e poi adesso vi faccio vedere un'altra cosa guardate se riesco volevo prendere eccolo qua dovrebbe vedersi il registratore come vedete io adesso sto parlando da quasi un minuto è chiaro che più si parla a lungo più bisogna essere bravi nel senso che magari capita che parlo metti cinque minuti e poi sbaglio e allora devo rifare tutto oppure devo stare zitto ci devo fare così così in fase di post produzione mi do due tre secondi per capire dove devo andare a tagliare la parte che ho sbagliato e riprendo per esempio è chiaro che non è semplice quello che preferisco io è fare discorsi cioè parlare pochi minuti o magari anche i primi tempi anche solo per 30 secondi cioè fare piccole registrazioni ma almeno in una parte del lavoro si salva e non bisogna ripeterla troppe volte quindi questo può essere una cosa molto importante ragazzi fatto tutto questo c'è fatta la fase di registrazione abbiamo del materiale su cui lavorare che cosa dobbiamo fare dobbiamo editare questo video la fase di editing ed it significa fare un po di cose nel senso sia unire insieme tutte le registrazioni ma anche lavorarsi un po sopra cioè lavorare in post produzione per migliorare la qualità per migliorare il video eccetera eccetera questa fase è una delle fasi più importanti ma anche secondo me almeno per quello che sto vedendo io fino adesso è la fase più noiosa e più complicata però è molto importante nel senso che bisogna pensare un po a tutto nel senso che quando io faccio vedere la formula di excel oppure quando faccio vedere qualcosa che è piccolo rispetto alla porzione di schermo che sto registrando mi devo ricordare per esempio di fare uno zoom il che può essere comodo perché non tutti guardano i video solo dal pc ma anche dal cellulare e quindi può aiutare detto questo poi siccome abbiamo visto che ci sono quelli che io chiamo i tempi morti cioè delle volte o stiamo aspettando che si apre una pagina o stiamo pensando a cosa dire quindi magari succede questo cioè non parlare per un secondo due secondi per rendere il video un po più corto un po più veloce un po più per aumentare il ritmo bisogna vedere quali e quanti secondi di questi tempi morti chiamiamoli così togliere perché è importante perché altrimenti può capitare che il video risulti spesso troppo troppo lungo quindi questa fase di editing è molto importante perché incide parecchio oltre vabbè a una registrazione fatta bene pensata incide parecchio comunque questa fase sul risultato finale però è veramente importante farla farla bene e spenderci del tempo cioè piuttosto secondo me si pubblica in ritardo ma questa parte anche se molto lenta molto lunga e molto noiosa la si deve fare con grande impegno ecco queste quattro fasi solitamente sono quelle che quando passa una fase successiva ad esempio dalla definizione del bene dell'argomento un po più preciso e la registrazione magari ritorno di nuovo indietro perché mentre sto parlando mentre che sto ascoltando capisco che devo aggiungere un altro pezzo devo togliere una parte di argomento oppure la stessa cosa dalla fase di editing alla fase di registrazione perché magari ci siamo accorti che è venuta male una parte la nostra voce si sente poco e quindi queste quattro fasi sono un po come un cerchio cioè prima o poi si si ritorna almeno per i primi tempi a meno che non siamo proprio dei talenti naturali però sicuramente si ritornerà indietro a una o più di queste fasi per ripetere il processo questa cosa però importante per rendere diciamo il video ancora secondo me di qualità migliore fate queste queste fasi mi raccomando ancora prima di pubblicare fate un po di controllo generale un po di balance come viene definito in musica sapete il fonico che quando ha finito fa un po controllo ai livelli generale ecco noi la stessa cosa dobbiamo fare per il video dobbiamo vedere se tutto fila se c'è un discorso logico se siamo stati chiari se siamo stati esaustivi in quello che volevamo esporre fatto tutto questo questo punto veramente potete procedere alla fase di pubblicazione se è un video su youtube oppure potete inviarlo ai professori o a chi deve vedere questo questo video questo contenuto multimediale che voi avete prodotto bene direi che il video può finire qua spero che vi sia stato utile come sempre fatemi sapere nei commenti lasciate consigli migliorie critiche insomma tutto quello che pensate sia utile al canale per andare avanti vi ricordo di iscrivermi al canale perché mi supportate mi date la possibilità di produrre contenuti sempre di migliore qualità vi lascio il link in descrizione anche del canale telegram occhio perché il link in descrizione è l'unico punto di accesso al canale se si iscrive sulla barra di ricerca per ora non si trova nulla c'è il canale non si trova ma l'unico punto di accesso è o il link in descrizione oppure se vedete vicino alla copertina del canale c'è anche un link al canale telegram non c'è un pulsante basta schiacciare quello e vi ritrovate sul canale telegram benissimo io vi saluto adesso la smetto e ci sentiamo alla prossima puntata alla prossima avventura insieme ciao ragazzi ciao ciao ciao